Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti. In queste ultime ore sono successe due cose a mio parere, a nostro parere, molto importanti. Una peraltro ci riguarda molto da vicino e l'altra riguarda la vita della città. La prima è la nascita di questa nuova federazione, a me piace chiamarla intesa, di centrodestra, tra i tre gruppi consigliari, quelli di Nuovo Corso rappresentato dal sottoscritto, quelli della città con Walter Mirarco, Ronzo Capodi, Giuseppe Spenga e quello del PDL, Conto Duccio Calabrese e De Gidio Maceri, che hanno deciso di dare vita ad un gruppo praticamente unico ed unitario, seppure non ancora sul piano formale, per dare una maggiore incisività all'azione degli stessi in Consiglio Comunale e nelle varie commissioni consigliari e soprattutto per dare un segnale molto forte ai vertici del centrodestra, i vertici provinciali, regionali e quant'altro, ed anche a chi nelle ultime ore ha preso delle iniziative abbastanza, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista abbastanza bizzarre, dopo spiegherò perché, per in qualche modo prendersi o tentare di prendersi delle patenti di Novello, leader del centrodestra, Neretino, che francamente assolutamente non gli appartengono. E mi spiego, noi crediamo che questo tipo di iniziativa sia una iniziativa molto bella, molto nuova dal nostro punto di vista, perché parte dal basso. Ci siamo ritrovati noi sei i consiglieri comunali, tutti quanti persone che hanno avuto il mandato dai cittadini, questo è bene sottolinearlo, e che si spendono quotidianamente sul territorio locale, perché noi parliamo di Nardò, della nostra Nardò, quindi hanno avuto questo mandato, si spendono in questo modo e che si sono francamente stufati e stancati di un certo modo di fare politica e mi riferisco anche senza nessun tipo di timore riverenziale al modo di fare politica di alcuni nostri leader, di alcuni nostri riferimenti. Che cosa voglio dire? Noi crediamo che bisogna veramente svoltare. Quindi questa iniziativa che parte, ripeto, dal basso vuole in qualche modo rappresentare un taglio a ciò che è stato fatto finora. L'imprimatur, le investiture che partono dai vertici provinciali, regionali, ripeto, e quant'altro, vanno bene quando questo comporta effettivamente una coesione, una compattezza ed una unità di intenti su quello che bisogna fare e si vuole fare per la città di Nardò. Quando questo non è, e ahimè e ai noi, finora questo non è stato assolutamente, e la storia di tutte le ultime competizioni elettorali ce l'ha abbondantemente insegnato, beh allora questo non va più bene e quindi bisogna fare in modo diverso. Quindi in questa ottica e in questo contesto si colloca questa nostra iniziativa. Riguardo al riferimento a novelli o pretendenti leader locali del PDL locale, devo dirla tutta. Noi siamo dell'avviso che posta la bontà di qualsivoglia iniziativa, di qualsivoglia persona che abbia a cuore le sorti della città di Nardò e la crescita della città di Nardò e quindi posta la nostra assoluta e senza riserva alcuna disponibilità ad una eventuale alleanza di tipo elettorale per fare in modo che il centrodestra neretino si riprenda in mano il governo della città proprio per avviare agli scempi di questa amministrazione. Posto questo noi però rifiutiamo l'idea che intanto questo tipo di patenti possa essere dato, ripeto, dall'alto. Perché noi crediamo che prima di prendere determinate iniziative e di fare determinate investiture e di dare determinati imprimatur, bisogna sentire i rappresentanti locali che sono quelli che si spendono e si sacrificano sul territorio. E poi è importante sottolineare come, quindi posta questa disponibilità dal punto di vista elettorale, è chiaro che noi rifiutiamo quest'idea di persone che ufficialmente e formalmente alle ultime provinciali si sono chiaramente schierate in un certo modo. A me fa veramente specie, sarà che sono uno degli ultimi arrivati, sarà che forse non sono il politico classico, ma a me e a noi tutti devo dire, perché ci ritroviamo tutti e sé in questi concetti, fa veramente specie che una persona che pure ha avuto obiettivamente e tanti cari auguri e complimenti per questo un consenso popolare straordinario e su questo non la questione, ripeto, tanti auguri e tanti complimenti. Però questa persona che ha questo tipo di consenso, fino a un mese fa era schierato da una parte, adesso si dice che si vuole schierare da un'altra parte, il suo referente provinciale il giorno dopo lo smentisce, il suo segretario cittadino dopo 48 ore dice cose diverse. A me tutto questo teatrino da parte di questi, anche i personaggi importanti della politica neretina, lo ribadisco e lo ripeto, a me fa molto specie, ecco perché prima inizialmente parlavo di bizzarria in alcuni comportamenti di taluni personaggi politici di Nardò. Quindi caro amico Frasca o chi per te, benvenga un'eventuale alleanza elettorale per il futuro, parliamone pure assolutamente, ovviamente alla pari sedendoci ad un tavolo ovale o rotondo dove non ci siano diciamo angoli. È però un minimo di coerenza, un minimo di continuità nel discorso che si vuole fare e soprattutto un minimo di raccordo con i tuoi referenti e con i tuoi riferimenti. Detto questo, vengo in breve alla seconda questione di queste ultime ore, è sicuramente da dire qualcosa, è la crisi dell'amministrazione comunale. Beh devo dire che tanto gli osservatori neutrali quanto noi che ci siamo dentro, sia pure a livello di opposizione, ci siamo veramente capendo molto molto poco. Quello che emerge comunque in tutta chiarezza è che ancora una volta questa amministrazione e questa giunta del Sindaco Baglio si è rivelata completamente inefficiente, incompetente, incapace e quindi credo che il Sindaco Baglio che è persona con il quale pure abbiamo avuto tanti scontri dialettici in Consiglio Comunale, in varie commissioni, anche sulla stampa in questi due anni, però dicevo che il Sindaco Baglio che è persona comunque da bene, per bene con una sua onestà e rettitudine intellettuale e politica, dovrebbe a mio avviso finalmente ma una volta per tutte prendere contezza che con questo tipo di maggioranza non va da nessuna parte, perché o continuo accedendo a dei ricatti francamente nauseabondi, oppure con un sussutto di dignità che il sottoscritto con altri amici che mi sono accanto e altri che oggi mancano, li hanno chiesto per tante volte in questi due anni e mezzo, in questo scorcio di consigliatura, oppure con un sussutto di dignità se ne deve andare a casa, consegnando la città dapprima al commissario prefettizio per poi poter votare nella prossima primavera. Sindaco, questo è l'appello che ti faccio a nome di tutti i sei consiglieri della nuova intesa di centrodestra e ripeto per un discorso tuo di dignità, perché ripeto o vai avanti cedendo ai ricatti e agonizzando, perché da quando hai iniziato questo tipo di amministrazione delle linee programmatiche ormai non si vede più niente, non si riesce a portare a termine un solo progetto che si dica uno, quindi che cosa ci stiamo a fare? Non possiamo far morire completamente questa città, per cui dal nostro punto di vista, dal punto di vista della federazione che in questo momento mi onoro di rappresentare, l'invito al Sindaco Vaglio è quello di rassegnare delle dimissioni definitive, di azzerare definitivamente e completamente le dereghe dei propri assessori e di consegnare la città alle elezioni anticipate. Grazie. Grazie. Grazie.